ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di naruto blazing allora ragazzi nello scorso episodio abbiamo provato la moda abbiamo fatto la moda della storia in cui abbiamo sfidato taiuya allora ragazzi vi dico sono andato un po avanti proprio troppo il problema è che sono bloccato contro sempre a questa parte però ragazzi sono contro kimimaro però il problema che proprio kimimaro mi fa venire una rabbia di quelli assurdi perché è più potente di sakon e ucon che in effetti ragazzi lo sfidati dopo appunto dopo la registrazione perché appunto mi è venuto un po di voglia di giocare alla prossima però sono stati difficili ma kimimaro vi dico ve lo dico bello e chiaro e tondo perché ciò lo sfidato è difficilissimo ragazzi da come vedete l'ha in atto abbiamo 25 salmon quindi è vero che potrei aspettare e guadagnamene altri 15 per appunto ottenere uno spacchettamento un po migliore però ragazzi mi viene voglia di aprire non ovviamente questi ma questo qua dove c'è appunto caputo perché è proprio quello di caputo e non quello là perché c'è anche in madara delle sei vie quindi abbiamo molta probabilità quindi alziamo il rasengan lo rilascieremo nel momento un po più giusto aspettiamo un altro po ok io dico che secondo me così possa bastare non è compasso sasuke quindi questo vuol dire che proprio appunto può comparire un po più tardi eccolo qua appunto che calcolo è di mio stesso credo che appunto io mi chiamo dal cucicolo ora vediamo un po allora è bianca la carta quindi è e poi è rare insomma vediamo chi è mamma mia che schifo cos'è cos'è sto schifo ma chi ti vuole cacou chi cazzo sei cacou è una cacata praticamente è una cacata mamma ti prego secondo spacchettamento purtroppo le esame ne sono di sicuro cinque perché mi sono fatto un calcolo proprio fa perché prima ne avevo 20 poi belle buone ho riaperto il gioco e mi sono trovato 25 quindi io direi di andare oh yeah stavolta arriviamo pure noi quindi di sicuro arriverà sakura dopo speriamo una cara bianca ti prego non di no cacou ti prego non di no cacou ti prego allora abbiamo parlato di sakura poco fa però intenderevo dire almeno quella grande non questa però vabbè di sakura già ce n'è una in squadra appunto quella grande però vabbè lasciamo stare abbiamo fatto abbiamo le due sacre la bambina e la grande praticamente non ci manca solamente che troviamo la sakura della guerra e siamo a posto allora siamo e la che deve essere lasciata ok è partito io spero in bene spero fottutatamente in bene no che schifo chi è vabbè io dai questo non mi posso lamentare è fortissima questa è fortissima io guardate 4 stelle 4 stelle rendetevi conto di com'è forte questa può essere vero che è una carta agento ma è fortissima come carta allora sentiti ma un buco di culo tanto ma ce la faccio ma posso avere fortuna spacca sto muro ti prego spaccagnate ti prego non fermarti ti prego dopo questa non fermarti dopo ok vero che noi arriviamo 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 alla sala di sasuke però ti prego non fermarti sulle inutili ti prego ti prego ti prego ti prego gialla gialla ragazzi chi è ti prego ti prego chi è buonissimo ragazzi questo è fortissimo racconta l'inizio perché ve ne ho parlato ma questo è forte 5 stelle ragamo questa è una bestia o questa è una cavolo di bestia ultima 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 prova salmon da aprire abbiamo trovato almeno qualcuno l'importante per me era lui cioè se non trovo nessuno il più raro è stato paolo sono stati loro praticamente ora spacca sta porta che cacolo queste qua sono proprio la tecnica che usa il tizio che abbiamo trovato sa go e rinco ula che cavolo è quella che testa i due fratelli insomma ti prego di nuovo l'ora chi è dai chi è oh mamma mia noi dai cagessi dai ragazzi e dai che fortuna ma mi stelle c'ha c'ha 6 stelle totale massimo ma ora ne ha 5 ma tu sei scemo proprio ragazzi abbiamo trovato l'ultimo due buonissimi personaggi mi dispiace molto che comunque le esame non siano comunque finite però abbiamo aperto un po' di spacchettamenti qui intanto che cavolo è ok riprendiamoci sta roba un po' a random ok tutto ragazzi io spero comunque il video vi possa piacere modificherò la squadra sperando solamente che mi possano servire ma penso proprio di sì perché appunto sono sono fortissimi cioè anche se sono di livello 1 secondo me mi possono dare un'ottima mano vabbè ragazzi voglio dire che questo video è tutto spero comunque il video vi possa piacere abbiamo trovato due ottime carte che nel prossimo episodio se ne dubbio riusciremo ad andare avanti vi farò vedere la parte finale in cui forse sfido Kimimaro oppure insomma se riesco a battere Kimimaro e se riesco ad andare un po' avanti anche con quella contro Sasuke vi faccio direttamente la battaglia contro di loro vabbè ragazzi raggiungiamo i 10 like ciao